L'inchiesta si sviluppò partendo dalle sorti dell'istituto di vigilanza privata Madonna delle Grazie, finito poi in decozione. Inizialmente l'accusa venne concentrata su presunte sottrazioni di fondi da parte dei soci. In dibattimento per due di loro è arrivata l'assoluzione. Al termine l'istruttore è stata la procura, attraverso l'EPM di Inaletta, ad indicare l'assoluzione per Rosario di Dio e Gaetano di Dio. Non sarebbero emersi elementi tali da avallare le contestazioni. La difesa di entrambi gli imputati, rappresentata dall'avvocato Mariela Giordano, ha ribadito, come già fatto nel corso del dibattimento, la mancanza di un collegamento diretto con le ipotesi avanzate dagli investigatori. Ha prodotto un'ulteriore pronuncia emessa però nel giudizio abbreviato che definì l'assoluzione per un altro socio dell'istituto di vigilanza. Il collegio penale ha quindi emesso un dispositivo favorevole agli imputati, confermando di fatto l'assoluzione, già chiesta appunto anche dalla procura e ribadita dalla difesa di entrambi gli imputati che in passato ebbero un ruolo nella struttura societaria dell'istituto di vigilanza.